La prima volta che sento in questo Consiglio Comunale, e a te la verità non si dice le sue parole. Secondo me, lei è un uomo onesto, che ce ne sono pochi. Oggi chi fa la politica non la fa onestamente come ho sentito le sue parole. Secondo il mio padre, chi sta ancora nel comune di Cattoria lo sta per me in secondo sua persona. Perché lei ha detto dei particolari che un governo italiano che si permette a fare dei risparmi, lei facendo ricerche, attendo un presidente, facendo risparmiare un comune di Cattoria che non accettano questi particolari, secondo me se ne deve andare in calcolo con tutti i tuoi seguaci. Perché io vedo, è la prima volta che ho detto che la vedo, in me, io vedo che lei è un uomo preda, politicamente e intellettualmente. Secondo il mio padre, lei dovrebbe essere instinto a tutti i cattori. No, lo dico seriamente perché secondo me i cattoriari non riescono a immaginare e a concepire veramente le persone oneste e le persone che vogliono fare la politica. mi scusi, mi scusi, mi scusi della mia un po' con l'involuzione perché la prima volta che è intervento apertamente davanti, diciamo così, a un consiglio comunale, allora, perché da mio punto di vista le dimensioni è fatto che è interesse, il consiglio non è caldo, non è caldo, per quanto riguarda il politico. Allora, guarda, perché lei è stato, è stato, è una persona che non può fare una politica sana per il popolo di Cattoria. Vieni grazie, guarda, 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 io non ho conto, per qualche che farò un'involuzione di lasciare un intervento, se gli avrò il popolo ma possiamo... ma detto così, che non sono un candidato, la prendo il dito, no, io parlo, no, 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 il faccio non mi lasci di dire una cosa, lei ha fatto anche il professore, non mi ha fatto una domanda e quindi questo è un po' perché mi piace. Ma non fa una domanda, no, 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 ma questa è la conferenza da, però, vengo il professore che ha pacchettato, ma è vero, mi ha fatto un po' di dire, e a prima volta avevo dato una promozione a Cagliarodini, io e questo ne ho mai maledie, però è un professore, ma è un professore, ma è un professore di questo, è un professore di questo, e io ho avuto un'amministrazione, che è accendere in un po' come la sua, per esempio, l'ultima amministrazione è che il nostro uomo, fin da che non chiama, d'accordo, si è chiamato appunto come se ne è un'immediato, lo so se questo vuole essere una amministrazione, ma è qua, no, Io ho tenuto a visitare da osservatore, perché è giusto che le domande si fanno i giornalisti, la stampa c'è, io da osservatore ho detto c'è, la prima volta che vi conosco oggi, oggi ho avuto modo di conoscere, tramite unissimo amico, diciamo, che ha detto sabati, vieni, vieni a sentire di cosa l'è detta, e io alla prima volta che vi vedo, e ho visto in me, ho visto nella sua persona che è un uomo politico, un uomo sano, è un uomo netto che può fare la politica a tutto. Grazie a tutti, grazie a tutti. Grazie a tutti, grazie a tutti. 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 Grazie.